E' venuto a mancare questa mattina a Genova all'ospedale Gagliera dove era ricoverato per un'insufficienza cardiaca Giancarlo Mori, 80 anni, ex presidente della regione Liguria. Mori era stato dirigente dell'Enel ed esponente della democrazia cristiana, militò poi nel Partito Popolare, nella Margherita e nel Partito Democratico. Fu presidente della regione dal 1985 al 1990, poi nel 94 e nel 95, candidato per il centrosinistra con il voto diretto. Nel 2000 venne poi sconfitto dal candidato del centrodestra Sandro Biasotti. Parole di cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Mori sono state espresse da tutte le forze politiche e regionali. Ai familiari vanno le condoglianze della direzione e della redazione di Imperia TV.